L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa ha annunciato che uno dei suoi osservatori è morto in seguito all'esplosione di una mina al passaggio di una pattuglia nell'est dell'Ucraina. Si tratta della prima vittima dell'OSCE da quando più di tre anni fa l'organizzazione è arrivata nella zona controllata dai ribelli prorussi per garantire il rispetto degli accordi di pace. Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha espresso il proprio cordoglio ai familiari delle vittime.